Sì, ma sta andando via, veloce. La chiudo io la borsa? Ehi! Non gli piace il panino della Lufthansa, neanche lui. Non ti piace il tramezzino. Dai glielo, dai glielo, questo tramezzino. Ho mangiato? Sì, dai l'ha mangiato. Sei bellissimo, sei bellissimo, sei stupendissimo. Taglia un altro po' di tramezzino, Lufthansa. C'è un altro, dai, guarda, un altro. Dai, dagli tutti un po' di tramezzino. Però lei è malato, ha la coda malata. Dai, che dopo questa ti arrampichi, era grandissima. Pancarrè e maionese. Guarda. Lei è alraneare? E' vera? E' ver Beccato è alraneare. E' vera. Everyод a perché sono i due? E' vera. E' vero quella di qui in strada? E' vero. Oh, perché? Allora. E' vero io. Grazie.